8 squadre, più di 100 atleti e quasi 12 ore di rugby. Questi numeri della tanto attesa prima tappa pescarese del trofeo nazionale di Beach Rugby che si svolgerà sabato 18 giugno presso lo stabilimento Balneare La Capannina. Il torneo organizzato dalla società sportiva Pescara Rugby in collaborazione con la federazione italiana rugby, il comitato regionale Abruzzo della federazione e con il patrocinio del comune di Pescara ospiterà numerosi atleti che arriveranno non solo dall'Abruzzo ma anche da Lazio, Marche e Campania. Saranno 8 le squadre in gara fra cui formazioni abruzzesi. Il campo di gioco sarà allestito all'interno dell'area dell'Idola Capannina nelle adiacenze dell'area della Madonnina e del Ponte del Mare. Non mancheranno gli stand di tutte le società sportive partecipanti, momenti di divertimento ed il tradizionale terzo tempo tanto caro al nostro rugby. Credo che sia un'occasione non indifferente per la città di Pescara avere la quinta edizione della tappa nazionale di Bici Rugby che io ho voluto fortemente intitolare come la tappa d'Abruzzo a significare che fondamentalmente oltre alle presenze dei club del rugby abruzzesi ce ne saranno alcune campane, alcune laziali. Ha una grande valenza tant'è che la parte riferita al patrocinio da parte del Comune è stata immediata. Sarà una bellissima giornata perché poi lo sport che andremo a fare di per sé è già faticoso ma nel caso farlo sulla spiaggia è di una fatica non indifferente tant'è che le squadre si scontreranno 5-5 a fronte di 15-15 nel campionato regolare che in quel caso avranno in panchina sette persone a dimostrazione del grande turnover della partita e della fatica che faranno gli atleti. Grande fisicità? Grandissima fisicità. La dimostrazione ne è il fatto che ognuno di noi ha il sentore che giocare sulla spiaggia è faticoso. Immaginate una partita dei rugby dove l'entusiasmo è anche la parte dell'esaltazione della tecnica del rugby, del placcaggio e quant'altro viene esaltato dalla spiaggia, non si cade né sulla terra né sul sintetico, sulla spiaggia quindi si esaspererà l'attività fisica.